La caratteristica più evidente del discorso poetico consiste nel fatto che si sviluppa in versi e i versi sono regolati da alcune norme che definiamo metrica. Il metro è lo spartito del testo e dello spartito a tenere insieme tutto ciò che il testo dice. Leggere un'opera letteraria significa saper cogliere la particolare densità della sua forma espressiva, una densità che le è propria, perché la lingua della letteratura è un codice speciale diverso da quello della lingua naturale. La lingua della letteratura si serve della lingua naturale come di un materiale da manipolare in modo da renderlo particolarmente ricco di significato. In un testo poetico la densità espressiva è determinata dal metro. Umberto Eco dice occorre crearsi delle costrizioni per poter inventare liberamente. In poesia la costrizione è data dal piede, dal verso, dalla rima, da quello che i contemporanei hanno chiamato il respiro secondo l'orecchio. Il respiro secondo l'orecchio, cioè il ritmo del componimento. Il metro della poesia italiana è accentuativo, si fonda cioè su versi che entro un numero definito di sillabe alternano sillabe forti e sillabe deboli. Ogni parola italiana ha un accento tonico, la sillaba su cui cade l'accento si dice forte, mentre sono deboli le sillabe privi di accento. Vedete gli esempi rosa, scatola, città. Considerate il primo verso della Divina Commedia, è fatto da sette parole. Nel mezzo del cammin di nostra vita ogni parola ha il suo accento tonico, ma gli accenti metrici sono soltanto questi nel mezzo del cammin di nostra vita. Gli accenti metrici coincidono con quelli tonici di ogni parola, ma non tutti gli accenti tonici delle parole in un verso diventano ictus. La poesia italiana presenta versi trisillabi, quadrisillabi, quinari, senari, settenari, ottonari, novenari, decasillabi, endecasillabi. Alcuni versi doppi, senari doppi, settenari doppi. Ma contrariamente a quanto normalmente si dice, un verso non si definisce endecasillabo perché ha 11 sillabe o ottonario perché ne ha 8. Il computo delle sillabe di un verso tiene conto anzitutto dell'accento tonico delle parole finali del verso. Questi sono i versi di una tragedia di Alessandro Vanzoni, la Delchi, e lì nel coro del quarto atto sono i primi sei versi. Sono settenari, la tradizione li legge come settenari. Guardate sull'affannoso petto. Sette sillabe. Gli altri sono settenari ma hanno per esempio otto sillabe, sparsa le trecce morbide, oppure addirittura sei sillabe, sguardo cercando il cielo, l'ultimo verso. Tuttavia, come vi ho detto, la tradizione legge questi versi come settenari. Perché? Dove ci sono otto sillabe perché l'ultima parola del verso è sdrucciola, morbide. L'ultima parola del verso sei è tronca, cel. Ma in tutte queste parole finali l'accento cade sempre sulla sesta sillaba del verso. Dunque, diciamo che un settenario si definisce tale non perché è un verso di sette sillabe, ma perché ha sempre un accento sulla sesta sillaba. Analogamente si può dire per tutti gli altri versi italiani. Un quadrisillabo ha sempre un accento sulla terza sillaba, un quinario ha sempre un accento sulla quarta sillaba, un indecasillabo è tale perché presenta sempre un accento sulla decima sillaba. E c'è un'altra considerazione da fare a proposito del computo delle sillabe dei versi italiani. Perché? Per realizzarla correttamente non basta applicare le regole che normalmente usiamo per sillabare una parola. Occorre tener conto anche delle cosiddette figure metriche che intervengono alterando la nozione di sillaba. Per questo tra l'altro preferiamo usare l'espressione numero delle posizioni metriche nel verso, non numero delle sillabe. La presenza delle figure metriche altera il computo delle sillabe perché fa sì che dove normalmente ci sono due sillabe magari ne contiamo una sola o viceversa là dove c'è una sola sillaba ne contiamo due. Ma per fare un discorso più preciso è opportuno ricordare le regole fondamentali del computo sillabico italiano. Per questo dovete andare alla lezione due. Torniamo adesso sull'esempio manzoniano che abbiamo già visto e concentriamoci sul verso quattro. Di morte il bianco aspetto. Questo settenario ha addirittura nove sillabe. Di morte il bianco aspetto. Perché ne contiamo sette? Perché le consideriamo un settenario? Perché si applica la figura metrica della sinalefe tra due parole una che finisce per vocale come a dire la verità è consuetudine in italiano e l'altra inizia per vocale. Morte il quindi alla posizione alla sillaba tre del verso. Ecco che invece di considerare due sillabe ne abbiamo una sola. Lo stesso succede alla sillaba cinque. Bianco aspetto. Bianco a diventa una sillaba sola. Aspetto accentata come vedete l'accento tonico cade sulla sesta sillaba e abbiamo le sette sillabe del settenario. La sinalefe quindi è una figura metrica che si applica tra due parole con finale inizio in vocale facendo in modo che di due sillabe se ne conti una sola. La di alefe era mia vita e è ne cangia stile è un verso di leopardi. La di alefe è l'opposto della sinalefe. Si applica quando una delle due sillabe coinvolte è accentata. Ecco le ultime due figure metriche la sineresi e la dieresi. La sineresi all'interno di una parola agisce all'interno di una parola e conta come un'unica sillaba due vocali che invece formerebbero due sillabe distinte. L'esempio lo abbiamo già visto nel testo manzoniano. Già c'è la pia col tremolo sguardo eccetera. Pia normalmente sono due sillabe perché è accentata la i. Per sineresi ne consideriamo una sola. La dieresi è l'opposto della sineresi. Considera distinte le vocali di un dittongo quindi conta due sillabe là dove ce n'è una sola. L'esempio è l'inizio di un sonnetto molto famoso di Ugo Foscolo forse perché della fatal quiete. Come vedete quiete normalmente sono due sillabe Foscolo ne considera tre. Bene abbiamo detto molte cose sui versi italiani. Abbiamo imparato a contare quantomeno le loro sillabe o meglio le loro posizioni metriche. Abbiamo parlato dei loro accenti per lo più dell'accento dell'ultima parola del verso. Nella prossima video tratteremo il tema degli accenti e quello delle pause nel verso. Alla prossima!